Sarà capitato anche a voi almeno una volta di pensare che i terremoti avvengano soprattutto di notte. Sicuramente ha influito su questa convinzione il fatto che tre dei terremoti più forti che si sono verificati negli ultimi 12 anni e in particolare il terremoto dell'Aquila del 2009, uno dei terremoti dell'Emilia del 2012 e uno dei terremoti dell'Appennino nel 2016 si sono effettivamente verificati di notte. Questi però sono solo tre episodi. Per esempio per quanto riguarda i terremoti dell'Appennino i tre terremoti principali del 2016 si sono distribuiti equamente su tutta la giornata, uno di sera, uno di notte e uno al mattino. L'unico modo per rispondere alla domanda se i terremoti si verifichino più di frequente di notte che di giorno o viceversa è quello di andare a guardare i numeri e fare qualche statistica. Prendiamo dunque in considerazione i terremoti avvenuti in Italia estraendoli dal bollettino ufficiale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Uguali considerazioni potrebbero essere fatte considerando la sismicità mondiale o ogni altro bollettino. Consideriamo ad esempio gli eventi sismici dei 5 anni dal 2013 al 2017 di magnitudo 2 e superiori. Se costruiamo un istogramma con il numero di eventi sismici verificatisi per ogni ora del giorno si ottiene un grafico con il quale è possibile evidenziare che i terremoti sono equamente distribuiti durante tutto l'arco della giornata. Anche considerando i terremoti di magnitudo superiore a 5 per un periodo sufficientemente lungo è facile notare che vi sono stati terremoti senza poter distinguere un orario o un periodo, notte, mattina, pomeriggio o sera, in cui sono stati più frequenti. Questo è in realtà un risultato atteso perché, ad oggi, non vi sono elementi che facciano pensare a fenomeni o condizioni notturne che favoriscano il verificarsi di terremoti. Giorno o notte, nessuna differenza.